Di recente il principe William ha sfoggiato un look diverso durante i suoi impegni, e un esperto svela le due mosse che hanno reso il suo nuovo rebranding un successo. Il principe di Galles ha recentemente adottato un nuovo stile più contemporaneo per le sue apparizioni pubbliche. Ciò si è concretizzato tramite due cambiamenti chiave in quello che è stato definito un rugged rebrand, i fan sono impazziti. Il principe William ha scatenato l'entusiasmo dei fan reali ad agosto, quando ha mostrato per la prima volta la sua barba incolta appena acquisita, che alcuni avevano pensato fosse parte del suo look rilassato per le vacanze estive. Ma da allora l'ha mantenuto, e sembra aver optato per scelte sartoriali più rilassate e casual per i suoi impegni. All'inizio di questo mese, l'evoluzione dello stile dell'erede al trono ha raggiunto il culmine quando ha fatto notizia dopo aver indossato un paio di scarpe da ginnastica bianche per un impegno a Londra. William ha partecipato a un evento comunitario organizzato dalla NFL Foundation, che ha evidenziato gli sforzi della fondazione nel sostenere i giovani di alcune delle aree più povere del Regno Unito attraverso il flag football. Il futuro re appariva elegante in un completo casual elegante composto da un blazer scuro attillato, una camicia blu, pantaloni cino scuri e scarpe da ginnastica bianche. I fan della famiglia reale, sono impazziti per l'aspetto del principe, che è stato impreziosito dalla sua ormai famosa barba. Ora un esperto di stile ha elogiato le scelte sartoriali di William, e ha affermato che sta adottando un nuovo look adatto alla sua età. La stilista delle celebrità Martin Alexander ha detto al mail, questa risposta positiva ha dato a William la sicurezza di essere più contemporaneo con il suo stile. Sembra che stia adottando un look appropriato alla sua età ed è bello vederlo. Un blazer slim fit e una camicia aperta creano un look più giovane. La lunghezza accorciata di cino rende il look più alla moda e contemporaneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.